Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Oggi giornata di riposo per il rosso-blu di ritorno dal ritiro di Sarnano, ma già domani la squadra riprenderà gli allenamenti al Samba Village di Montsampolo del Tronto. Non si ferma invece il mercato con la società del presidente Roberto Renzi, che dopo aver ufficializzato lo sponsor della nuova maglia, la sideralba del gruppo Rapullino, è pronta a piazzare altri quattro colpi per rinforzare la rosa. Il DS Cozzella avrebbe trovato l'accordo con quattro giocatori che firmeranno nelle prossime ore. Il primo ad essere ufficializzato sarà il portiere. Si tratta dell'under Jacopo Corci, che arriva in prestito dalla primavera del Genoa. L'altro nome, sempre più insistente, è quello del difensore centrale Lucas Bardella, che andrà così a completare il reparto arretrato. Sbardella, 29 anni, romano, ha giocato gli ultimi tre campionati nel campo basso. Parla sempre più brasiliano però la samba di Mister Alfonsi. Dopo il portoghese Costa, arrivano anche il centrocampista, ex Corinthians Matheus Melo, e la punta centrale Thiago Rubim. I due brasiliani sono entrambi classe 99. Melo, lo scorso anno, ha giocato tutte le partite nell'Inense, partendo dalla panchina, ma rendendosi sempre decisivo. Il centrocampista è stato infatti uno dei capocannonieri del campionato, con quattro gol. Rubim ha giocato invece nel Rio Claro, ma anche lui ha vestito in passato la maglia dell'Atletico Linense, Serie A2 brasiliana.